L'ultima volta abbiamo accennato il metodo del tipo Come vedete già ho preso una matrice quadrata Quindi oggi vorrò parlare di matrice quadrata Il metodo di V e di DMA Però diciamo l'osservazione fondamentale che abbiamo fatto l'ultima volta Era che supponiamo di avere n vettori di Rn Con le coordinate scritte messe in una matrice n per n Noi abbiamo fatto l'osservazione che se io prendevo una di queste righe E la sommavo o ne sommavo un multiplo a un'altra riga Lo spend delle righe non cambiava La stessa cosa succedeva se scambiavo una coppia di queste righe Quindi ne avevo dedotto che Facendo delle opportune operazioni di riga Cioè sommando una riga, un ultimo di un'altra riga Oppure scambiando queste righe Se vi ricordate io alla fine Arrivavo a una matrice del tipo Una matrice dove qui c'erano tutti i 0 Metto un unico 0 grande per dire che sono tutti i 0 In realtà Poi se le righe erano ordinariamente indipendenti in partenza Questi numeri qua erano tutti quanti diversi Quello che abbiamo scoperto è una cosa Poi lo ripetiamo in maniera più precisa Ma comunque è una cosa preziosa Anche se non servirà per quello che abbiamo immaginato Quando siamo partiti con questa cosa Cioè all'inizio avevamo immaginato Un modo di trovare una base Nel nostro spazio generato dalle righe Più semplice rispetto a quello che abbiamo visto prima Che era il metodo di virtualizzazione di Gram-Schmidt Il metodo di virtualizzazione di Gram-Schmidt L'abbiamo sviluppato Abbiamo fatto degli esempi Però richiedeva dei conti E qui volevamo arrivare a una base Diciamo in modo più semplice In realtà però ci stiamo restringendo a un caso Che non richiederebbe alcun conto Perché? Supponiamo che queste righe siano indipendenti Queste conti Ok? Allora a quel punto sono N Cosa genera uno spazio di dimensione N Siccome queste righe stanno in Rn Genera tutto Rn Quindi il problema di trovare una base Dello spazio generato Di trovare lo spazio generato non c'è Perché essendo tutto Rn Una base per esempio è la base di anonimo Quindi noi questo discorso veniva più utile Quando queste righe non erano indipendenti Allora individuavano Diciamo Un sottospazio di Rn E questo sottospazio dovevamo Era meglio avere una base scritta per bene Oppure una base ortogonale Oppure una base semplice da scrivere Per quale motivo? Perché il sottospazio Che andavamo individuare di Rn Non era banale Per esempio Anche se fosse dimensione N-1 Supponiamo che partivamo da R5 E il sottospazio aveva dimensione 4 Di iperpiani Dimensione 4 in R5 Ce ne sono infiniti Quindi andare Per forza a quel punto Dovevamo portarci appresso le righe Cercare di semplificare la situazione Il più possibile Per avere una base Che fosse più semplice possibile Da trattare In verità adesso io sto Partendo e dicendo il contrario Cioè Voglio che le righe siano indipendenti E voglio fare lo stesso In metodo del PV Perché lo voglio fare? Perché in realtà Mi sono accorto Che questa osservazione servirà A qualcos'altro Ora questo qualcos'altro È quello che dobbiamo scoprire oggi No? Che dobbiamo scoprire Diciamo dare come definizione Il determinante Però ci voglio arrivare In maniera Diciamo Da prima intuitiva E poi Invece diamo La definizione Dei proprietà del determinante Vabbè Ora Meglio di questo Non riesco a fare questa introduzione Comunque la situazione È questa qui Allora Ho una matrice N per N Abbiamo Una matrice A Questa è la nostra matrice A Possiamo scrivere in un altro modo Così A I J I compresi tra 1 Ed N J compresi tra 1 Ed N Questo è un altro modo Di scrivere una matrice A Qua si possono mettere a seconda Degli autori parentesi Tutti o grafici Però Non dice altro Che è sempre una tabella di numeri Dove ci sono due indici L'indice di riga I È il primo indice L'indice di colonna J È il secondo indice Gli indici sono giusto apposto Quindi Questa matrice A È quadrata Cioè Ha lo stesso numero di righe E di colonna Poi Andiamo a prendere I vettori riga In merita le righe si chiamano Si indicano con questo simbolo qua A Si mette 1 in basso Si intende la prima riga della matrice A Quindi A con 1 Non è altro che A con 1 A con 1 A con 1 N Io però Quindi questa definizione E questa roba E lo pongo uguale a V con 1 Perché lo voglio trattare come vettore Quindi A con 1 Mi sta antipatico È vero che È il vettore riga Però Similmente Pongo V con 2 Uguale a con 2 Che per definizione È A2 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 Allora Allora Per ipotesi Quindi qua scrivo Ipotesi Lo spen Lo spen Comunialmente dipendenti Generano spazio Dimensione n Ma se Generano spazio Dimensione n Che è un sottospazio Di rn Siccome rn Ha dimensione n I due spazi Devono coincidere I due spazi Vettoriali Uno dentro l'altro Della stessa dimensione Devono per forza Coincidere Queste sono le nostre ipotesi Allora Diciamo Mi viene il verbo Applicando Ripetendo Un numero finito Di operazioni Del tipo Allora Sono di due tipi Scambio di due linee Somma A Una Riga Di un multiplo Di un'altra riga Ripetendo In modo opportuno Non lo scrivo Ma Si Sottintende Posso Ottenere Partendo da Partendo dalla matrice A Una matrice A Primo A Primo 1 1 Primo 1 N Poi 0 Primo 2 2 Primo 2 N Poi L'ultima riga Saranno tutti 0 Tranne A Primo N Cioè A Primo I J Sarà Per forza Uguale a 0 Quando I È maggiore Di J Cioè In tutto questo triangolo Qui Tutti gli elementi Che compariranno Qua Devono essere 0 Mentre A Primo I Sarà sempre Diverso da 0 E Ricompreso da 1 N Spero che si riesca a leggere Spero che si riesca a leggere Sennò lo scrivo un po' più Grazie a leggere A Primo I J Uguale a 0 Quando I È maggiore Di J A Primo I I È Diverso da 0 Per tutti I Compressi da 1 Quindi Quindi Attenzione Le mie righe di partenza Per ipotesi Sono linearmente indipendenti Prima di tutto Io scambiando righe O sommando una riga Un multiplo di un'altra riga Posso annullare Dei Officidi della matrice Ovviamente Attenzione Una nuova matrice Allora dico che Facendo operazioni di questo tipo In maniera ripetuta In un certo modo Che adesso andiamo a vedere qual è Abbiamo già visto Mercoledì scorso Ma adesso lo ripetiamo Io dico che Riesco ad annullare Tutto quello che sta qua sotto Invece Quello che compare Sulla diagonale principale Saranno tutti numeri Diversi da 0 Diversi da 0 E questo Sarà dopo affatto Che le righe Normalmente Indipendenti Ora Una matrice del genere Intanto si chiama Triangolare superiore Triangolare superiore Non significa Che i numeri sulla diagonale Siano diversi da 0 Questa condizione qui Corrisponde alla definizione Di una matrice Triangolare superiore Una matrice triangolare superiore Una matrice che ha tutti i 0 Al di sotto Di questa qui Questa qui si chiama La diagonale principale Quindi la diagonale principale Della matrice È La diagonale che Diciamo Stiamo parlando Di una matrice quadrata Quindi È effettivamente Una diagonale E quella che contiene Gli elementi A1,1 A2,2 A3,3 Fino a n Quindi Da una matrice qualunque Però con le righe indipendenti Noi arriviamo a una matrice Triangolare superiore E quando arriviamo a una matrice Triangolare superiore Il fatto che le righe Possono essere indipendenti Mi dirà Che Sulla Con operazione di questo tipo Necessariamente Sulla diagonale Invece principale Avremo numeri diversi Grazie Questo È proprio Lo scopo Di quello che vogliamo fare oggi Allora Cominciamo a vedere Come funziona Questo qua Si chiama Metodo del Pivo Lo scrivo qua sotto Prima di dimostrare Il metodo del Pivo Faccio osservare che Faccio osservare che Continuando con operazioni di questo tipo Io potrei arrivare Benissimo Ad annullare anche quello che c'è Sopra la diagonale principale Perché? Questo lo dico in maniera intuitiva Nel momento in cui sono arrivato qua Vedete Qua giù c'è un elemento diverso da 0 Allora Se io faccio un multiplo opportuno Di A' e N Posso ottenere Qualcuno degli elementi Che gli stanno su Quindi Per esempio Se qua c'è 1 E qua c'è 3 Io prendo questo Lo moltipico per meno 3 Tutta la riga E la sommo alla prima riga Allora Che cosa si otterrà? Si otterrà che Dove ci sono tutti i 0 La riga non cambia Invece Qui 3 e meno 3 Si annullano Quindi Sommando un opportuno Multiplio dell'ultima riga Alle altre righe Posso annullare Tutti quelli che stanno in testa Ad A' N Una volta che Annullato questi Posso passare Ad A' N-1 E annullo tutti quelli Che stanno in testa E così via Quindi Una volta arrivata Una matrice triangolare Poi lo faremo meglio Con un esempio Non è difficile proseguire Per ottenere Una matrice diagonale Però questo qua In realtà Non ci interessa Non ci interessa Perché Noi già lo sappiamo Quando arriviamo A una matrice diagonale E quando arriveremo A tutti i numeri Diversi da 0 Nella seconda parte I numeri sulla diagonale Non cambiano Che cosa abbiamo riscoperto? Abbiamo riscoperto che E con 1 E con 2 E con N Cioè Se io annullassi Anche i numeri sopra Chi sarebbe? Avremo 1 1 0 0 Un multiplo di E con 1 Un multiplo con Un coefficiente Diversi da 0 Di E con 1 Quindi è come se Qui avessi E con 1 Sulla seconda riga È come se Avessi E con 2 E così via Quindi io Ho riscoperto Semplicemente Che i vettori Della base canonica Giano Rm Non è quello Quindi Questa osservazione Può essere L'abbiate capito Oppure no Comunque Lasciatela da parte Poi Eventualmente La capirete Dopo Intanto Dimostriamo Il metodo del pv Cioè Dimostriamo Che Facciamo Primo passo Primo passo Io voglio Modificare La matrice Con quelle operazioni Queste operazioni Qui In maniera tale Da annullare Tutto quello Che c'è sotto A1 Allora La prima cosa Diciamo Sia I con 0 Anzi I con 1 Iguale Il minimo Degli Tali che A1 È Diverso da 0 Cioè Vado a vedere Il primo Degli indici Per cui Nella prima colonna C'è un numero Diverso da 0 Questo insieme Non è vuoto Questo insieme qua È diverso Dall'insieme Perché è diverso Dall'insieme vuoto Se sulla prima colonna Ci fossero tutti i zeri Allora Allora Iscriviamo tutto Allora Allora L'insieme Degli Tali Diciamo Compresi Tra 1 N Tali che A1 È diverso Da 0 Dall'insieme vuoto Se fosse vuoto Allora V1 VN Sarebbe contenuto Nello SPEN Di E con 2 E con N E questo È assoluto Per capirci Se abbiamo Lo scrivo qua Un piccolo esempio Perché E con gli indici Capisco che abbiate Qualche difficoltà a seguire Se qui avessi Che ne so 0,1,2 0,1,1 0,0,1 O 0,3,1 E questi qua Non possono essere Indipendenti Perché Questi qui Diciamo 0,1,2 0,1,1 0,3,1 Sono tre vettori Apparterebbero Allo SPEN Si potrebbero Generare Generare Con i vettori 0,1,0 E 0,0,1 O no? Siccome Al primo posto Ci sarà sempre 0 Per generare Questi vettori Mi serve Un 1 Solo al secondo posto E al terzo posto Per esempio Questo vettore 0,1,0 Più 2 volte 0,0,1 Questo vettore 0,1,0 Più 0,0,1 Questo vettore 3 volte 0,1,0 Più 1 volta 0,0,1 Allora A questo punto Questo SPEN Ha dimensione 2 Perché è stato generato Da due vettori Indipendenti Questo per ipotesi Sarà dimensione 3 E allora Otteniamo Un assuncio Infatti Questi tre vettori Non sono affatto Linearmente Indipendenti Più in generale Più in generale Adesso cancello L'esempio Io dico Andiamo a guardare La prima colonna Non deve fare 0 per forza Questo Io che ne so Se fa 0 questo qua E' una questione Di fortuna Però Qualcuno Qualche elemento Diverso da 0 Nella prima colonna Ci deve stare Perché Se Questo insieme Fosse vuoto Vorrebbe dire Che nella prima colonna Ci stanno tutti i 0 Ma se nella mia colonna Ci stanno tutti i 0 Per generare Le righe Della mia matrice Mi basterebbe Soltanto i vettori E con 2 E con 3 E con n Della base canonica Perché nella prima colonna Ci sono tutti i 0 Allora E con 2 E con 2 E il vettore Che c'è uno qua E con 3 E il vettore Che c'è uno qua E tutti i 0 Allora Mi basterebbero Per generare Le colonne Le righe Della mia Matrice E questo è assurdo Perché questo Lo spanno Di questi lettori Questi sono N indipendenti E quindi Generano Uno Spen Di dimensione N Questo invece Di dimensione N-1 Quindi avremo Che un sottospazio Se questi stanno qua dentro Il sottospazio Di dimensione più grande Sarebbe condivido In un sottospazio In uno spazio In una dimensione più grande Sarebbe condivido In uno spazio In una dimensione più Piccola Questo non è possibile Come nell'esempio Semplicemente Invece di dirlo Per la dimensione 2 e 3 L'abbiamo detto Per la dimensione N-1 Quindi Adesso che faccio Scambio 6 con 1 È diverso da 1 Scambio V con 1 E v con 1 Se i con 1 È diverso da 1 Scambio V con 1 E v con 1 Cioè sarebbe a dire Diamo Diamo Ancora A La matrice Così Ottenuta Ok Praticamente La situazione È questa qui Prendete questa matrice qua Questa matrice qua Effettivamente I tre vettori Sono indipendenti I tre vettori Sono indipendenti Ok Allora In questo caso I con 1 Quanto fa? I con 1 I con 1 Chi è? Vediamo se Riuscite a leggere la mano di mano I con 1 Per definizione È il minimo indice Per cui A I 1 Sia diverso da 0 Questo è quale? Questo è diverso da 0 Lui sia diverso da 0 I con 1 Quant'è? Il problema è sempre là Capire quello che si scrive Che giustamente Se io scrivo russo Voi non lo capite Però il problema è che Se scrivo matematica Dovresti capire Allora Chi è? L'insieme degli indici Compreso tra 1 e 3 Tale che A I 1 È diverso da 0 In questo caso 2 e 3 È chiaro questo? A 1 1 fa 0 Quindi I uguale a 1 Va bene A 2 1 fa 1 Quindi I uguale a 2 Va bene A 3 1 fa 1 E quindi E quindi Chi è I 1? I 1 è il minimo di questo insieme E quindi fa 2 È chiaro? Quindi Cosa sto facendo io? Sto scorrendo questa Riga Questa colonna Fino a che non trovo Un numero diverso da 0 La riga corrispondente La chiamola I 1 Ma I 1 era 1? Se sì Non faccio niente Se no Che faccio? Scambio Scambio la riga I E la riga 1 In questo caso Scambio la riga I 1 E la riga 1 Cioè Metto sopra La riga La riga Che aveva un elemento diverso da 0 Adesso Quando dico Chiamo ancora A La matrice così ottenuta Significa che Mi dimentico di aver scambiato E questo elemento Lo chiamo di nuovo A1 1 Ok? Perché A1 1 Non era questo A1 1 Era questo E quello che finito qua Quindi questo qua Lo dovrei chiamare Con un nuovo nome Però se devo chiamare Con un nuovo nome Poi siccome di questa operazione Devo fare tante Allora cambiare il nome Ogni volta Significa che devo usare Un sacco di nomi E almeno Non lo voglio fare Quando faccio gli scambi Quindi Quando scambio La matrice Si chiama di nuovo Come si chiamava prima Però volevi che è scambiata Ok? Ok Quindi Posso supporre Il tutto equivale a dire Che posso supporre A1 1 Diverso da 0 Se era uguale a 0 Scendevo sulla colonna Trovavo A1 Diverso da 0 Scambiavo E mettevo Al posto di A1 1 Questo A1 1 Che era diverso da 0 Quindi alla fine A1 1 Sarà diverso da 0 Io ho fatto Al più Uno scambio Cioè Se qui C'era una cosa diversa da 0 Non scambiavo niente Se qui c'era una cosa Questa è uguale a 0 Scendevo Al per la una riga Diversa Col primo elemento Diversa da 0 Scambiavo E la portavo In prima posizione Ok? Adesso Facciamo V con 2 Uguale V con 2 Meno A2 1 Fratto A1 1 V con 1 Fino ad arrivare a V con n Uguale V con n Meno An 1 Fratto A1 1 V con 1 Allora andiamo A scrivere per stesso Questi che sono Questi sono A2 1 A2 1 A2 n Meno A2 1 Fratto A1 1 A1 1 A1 1 A1 n Ora Se andate a fare il conto Qui A1 1 Era diverso da 0 Perciò Lo potete dividere Quindi quasi semplifica Al primo posto Al primo posto viene A2 1 A2 1 Meno A2 1 Fa 0 Al secondo posto invece A2 n Meno A2 1 Fratto A1 1 A1 1 Similmente Questo Senza che faccio Io direttamente cosa viene Viene 0 Poi viene AN2 Meno AN1 Fratto A1 1 AN2 Virgola Poi poi viene ANN Meno AN1 Fratto A1 1 A1 1 Vabbè mettiamoci Il passato intervento Questa è la AN1 Virgola AN Meno AN1 Fratto A1 A1 1 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 Qua c'era 1,1,1, no? Dopo avevamo fatto lo scatto Vi chiamiamo ancora come se fosse la maticea Adesso io che devo fare? Qua A2,1 è 0 Quindi qua devo sommare un moltiplo della prima riga moltiplicato per 0 Quindi non devo fare niente Qua invece devo, scusate, non sommare, sottrarre la prima riga Quindi dopo aver fatto questo V con 2 rimane uguale E V con 3 diventa 0,1,0 No? Dopo aver fatto queste due poi la azione V con 2 rimane uguale perché non devo fare niente Adesso questa matrice Se volete cambiate nome Però cambiare nome Se non la chiamiamo di nuovo A Oppure la possiamo chiamare Tutte le matrici intermedie La possiamo chiamare C A questo punto Dopo queste operazioni Allora scriviamo così Dopo queste operazioni La matrice La matrice È fatta così È fatta così Avrà A1,1 Qui ci sono tutti i zeri E qui ci sono altri numeri A1,1,1 A1,1 A2,2 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 o se per distinguerla, per dire che questi non sono i numeri di prima con cui abbiamo iniziato metteteci una specie di indicazione come se fosse un tempo qui era dopo il primo scambio, qui siamo alla fine del passo 1 fine, passo, la nostra matrice è diventata così qui abbiamo tutti i zeri e negli altri posti vengono dei numeri, quello che tiene adesso andiamo a fare il passo 2, secondo passo è chiaro dove siamo arrivati? adesso mi fate cancellare questa lavagna, voglio lasciare il rinunciato che si veda e scriviamo riscrivo, lascio solo la matrice che poi adesso ricopiamo là sopra grazie a tutti allora scriviamo qui alla fine del passo 1 la matrice era qui c'eravamo A11 A11 a1n facciamo 0 a21 a2n poi 0 a31 a3n poi lasciamo un po' di spazio facciamo 0 a1 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 chiaro? e non solo, sapevamo anche che A11 era diverso da 0 perché lui avevamo cercato quello diverso da 0 ci dovrebbe stare, lo abbiamo portato in prima posizione e tramite lui abbiamo annullato gli altri che stavano sottolineo Adesso facciamo il secondo passo Adesso facciamo il secondo passo Andiamo a prendere l'insieme degli i compreso tra 2 ed n tali che ai2 è diverso da 0 Questo è diverso dal vuoto Andiamo a vedere per quali indici questi numeri sono diversi da 0 Per qualche indice deve essere diverso da 0 Perché altrimenti v2 vn sarebbe contenuto nello spenn se qua fossero tutti 0 di e con 3 e con n e quindi v1 vn sarebbe contenuto nello spenn v1 e con 3 e con n e questo è assoluto Allora guardate se qui ci fossero tutti 0 allora guardate dal secondo vettore in giù per esempio supponiamo di avere una matrice fatta così 1,2,1 poi 0,2 0,0,4 5 Allora Allora guardate gli ultimi due vettori questi sarebbero nello spenn del solo vettore con 3 perché questi sono tutti e due moltipliti con 3 del terzo vettore della base gamma quindi per generare questi ci vorrebbe un solo vettore ma allora per generarli diciamo per avere v1 v2 vn v2 vn io li genero con solo i con 3 se ci aggiungo v1 genero anche v1 e quindi genero v1 v2 v3 ora se vi fate i conti ah questi sono n-1 e questi sono n-2 aggiungendo v1 questi sono n e questi sono n-1 ed è sempre impossibile perché gli n di partenza erano linearmente indipendenti quindi non li posso generare con n-1 v2 v2 quindi questo qui è assurdo l'assurdo è nato da fatto dall'avere pensato che quell'insieme fosse vuoto quindi questo insieme non è vuoto quindi chiamo i con 2 il minimo di questo insieme cioè il minimo degli indici tra 2 ed n tali che ai2 è diverso se i con 2 è diverso da 2 se i con 2 è uguale a 2 vuol dire che a2 2 è la diversa da 0 e non devo fare niente se i con 2 è diverso da 2 scambio allora scambio v2 e la matrice la chiamo ancora a e la matrice la chiamo ancora questo è semplicemente un fatto di rotazione il fatto di chiamarla sempre a perché io potrei chiamarla dopo il primo passo poi ci potrei mettere una parente e ci scrivo 1 dopo il primo passo poi dopo al secondo passo a metà ci scrivo 1 a s cioè 1 con lo scambio poi a quando finisco ci metterei la parentesi con scritto 2 dopo il secondo passo non me lo fate farlo perché sennò perdo un sacco di tempo ma penso che un minimo di flessibilità non siamo dei computer abbiamo delle caratteristiche che possiamo utilizzare ok adesso cosa faccio? faccio v con 3 uguale v con 3 meno a 3 2 fratto a 2 2 v con 2 fino ad arrivare a v con n v con n meno a n 2 fratto a 2 2 v con n quindi questo era 0 virgola a 3 2 virgola a 3 n meno a 3 2 fratto a 2 2 che moltiplicato a 0 virgola a 2 2 virgola a 2 n quindi alla fine mi viene 0 0 poi qua mi viene a 3 3 3 meno a 3 2 fratto a 2 2 a 2 3 a 3 n vabbè vabbè l'altro non me lo fa testi perché la formula è plus 2 a 2 a 2 la seconda questa qua è che abbiamo diviso che abbiamo diviso per a 2 2 in generale se fosse v con i lo faccio con la riga iesima per dire un i qualunque qua ci sta i quindi vi avrete 0 a i 2 virgola a i n meno qua quindi qua sarebbe a i 2 fratto a 2 2 per 0 virgola a 2 2 a 2 n uguale 0 0 poi viene a i 2 meno a 3 i 2 fratto a 2 2 qua scusate i 3 a 2 3 virgola virgola poi a i n meno a i 2 fratto a 2 2 a 2 n no? qua se ci mettete 2 vedete subito che a 2 2 a 2 2 semplifica a i 2 meno a i 2 fa 0 cioè al secondo posto viene sempre 0 questa è in generale questa è per la terza riga e poi si arriva fino all'ennesima riga quindi dopo il secondo passo la matrice come sarà fatta? qua ci avrà a 1 1 qua ci avrà 0 qua ci avrà a 2 2 e poi qui sotto avrà tutti 0 e invece qui sopra e in questi altri posti può avere benissimo delle cose diverse da 0 diciamo qua ha tutti i 0 qua ha delle cose diverse da 0 qua ha quello che viene può essere uguale a 0 e può essere diverso da 0 cioè nei posti dove c'è scritto 0 c'è a 1 1 a 2 2 sui primi due elementi alla diagonale a quel punto c'è ci sono dei numeri diversi da 0 li abbiamo costruiti apposta se a 2 2 era 0 e a 2 era diverso da 0 scambiavo in maniera tale che qua ci venisse il numero diverso da 0 e ci doveva stare negli altri posti ho quello che viene dal procedimento che può essere uguale a 0 e che può essere diverso da 0 ma a questo punto cosa cosa farò secondo voi? se adesso vado a esaminare questi elementi qua possono essere tutti 0? no perchè non possono essere tutti 0? perchè altrimenti i vettori dal terzo fino all'ultimo sarebbero n-2 e li potrei generare con i vettori dai con 4 fino ai con n che sono n-3 e così via e quindi posso ripetere per intuizione questo discorso facciamolo in generale allora diciamo che per intuizione alla fine del passo i alla fine del passo i la matrice com'era fatta? ho bisogno di un po' qui spazio la matrice è fatta così a 1-1 a i i poi qua c'era a i i più 1 a n i più 1 poi c'era a n i più 1 a i i più 1 a i i più 1 a 1 i più 1 a 1 i più 1 e qua sotto c'erano tutti 0 cioè l'ho fatto il primo passo ho fatto il secondo passo adesso induttivamente per ipotesi induttiva suppongo di aver fatto i passi dopo un certo numero di passi I forse era meglio usare un'altra lettera H se no poi devo cambiare la lettera dopo allora dopo ci ho messo I ci devo mettere H ok dopo H passi e la notica era fatta così adesso vado a considerare questi vado a considerare questi insieme qua cioè vado a vedere questa questa colonna qui ma non da questo questo l'ho escludo vado a vedere solo gli elementi che stanno in questo pezzo qui dell'H più nesima con o vado a vedere se c'è qualche elemento diverso da zero io dico che c'è che questo insieme lo ne vuoto altrimenti e quindi vh più 1 vn si potrebbero generare da v1vh e h più 2 e con n e quindi v1vn si potrebbero generare da v1vh e h più 2 e con n e quindi insieme lo ne vuoto e qui c'è anche qui cioè i primi H me li tengo così come sono da H più 1 fino ad arrivare a n potrei risparmiare un vettore ma allora in totale questi sono n e questi sono sempre n-1 perché qua sono h e qua sono n-h-1 quindi chiamerò adesso rigon h il minimo di questi indici per cui a con i h più 1 è diverso da 0 se i con h è diverso da h più 1 scambio i con h v con i con h e v h più 1 e la matrice la chiamo ancora a adesso devo scrivere semplicemente la formula del diesimo passo la formula del diesimo passo la scrivo direttamente nel caso generale è che v con i deve essere uguale a v con i meno a i h più 1 fratto a h più 1 h più 1 per v h più 1 cioè qua mi vengono 0,0,0 sono i primi h poi mi viene a i h più 1 a i meno a i h più 1 fratto a h più 1 h più 1 per a h più 1 h più 1 questo pezzo che fa 0 senza non vado a cancellare questo pezzo adesso viene 0 come lui poi mi vengono gli altri termini che saranno quello che vengono cioè qua viene a i h più 2 meno a i h più 1 fratto a h più 1 h più 1 fino ad arrivare ad a i n meno a i h più 1 fratto a h più 1 h più 1 h più 1 a h più 1 n capisco che scrivere gli indici in questa situazione non è la cosa più bella del mondo perché noi abbiamo a e la lettera i h più 1 ecc sono gli indici gli indici sono giusto apposti quindi c'è un piccolo spazio tra l'indice di riga e l'indice di colonna e nella formula ci sono anche le somme all'interno degli indici però questo è questo qua per quali righe? questo qua si deve fare per le righe i da h più 2 fino a n quando avete fatto questo passo per le righe da h più 2 fino a n cioè prima di questo passo qui c'era quello che c'era dopo questo passo cosa ci sarà qua sotto? qua ci sarà h più 1 qua avremo a 1 1 a 1 1 poi verrà h più 1 poi verrà h più 1 h più 1 qua ci saranno tutti i zeri e qua invece ci sarà quello che viene questa è la prima del diciamo dopo l'attesimo passo dopo l'attesimo passo questa è la fine del passo h più 1 e vabbè così si può andare avanti così si può andare avanti e si arriva fino alla fine cioè quando arriviamo fino alla fine a cosa arriviamo? arriviamo esattamente a questa matrice qua per esempio l'ultimo passo quando siamo arrivati qua all'ultima riga deve venire per forza l'ultimo elemento diverso da 0 perché se l'ultimo elemento fosse 0 avrete una riga nulla e allora le righe che devono essere realmente dipendenti diciamo si potrebbero generare con n meno 1 righe e non è così quindi alla fine l'ultimo passo diciamo automaticamente mi verrà o adesso alla fine mi ricordo che la matrice in realtà è stata modificata quindi alla fine non la chiamo più a l'ho chiamata sempre a dovendo diciamo più correttamente chiamarla ci devo mettere un qualche cosa che tenesse conto di tutti i passi che stavo facendo alla fine la matrice che ottengo non la chiamerò a, la chiamerò a' ma come sarà fatta a primo a primo sarà fatta avrà tutti i 0 al di sotto della diagonale principale quindi se è una matrice triangolare superiore e avrà qui per costruzione abbiamo detto e abbiamo verificato che era sempre possibile farlo tutti elementi diversi da 0, mentre al di sopra della diagonale principale avrà quello che avrà poi facendo altre operazioni simili si può anche annullare quello che c'è al di sopra della diagonale principale ma questo appunto è un altro problema non ci riguarda il tutto di per sé è molto banale ripeto ci fa riscoprire che una base di rn è con 1 e con n però in realtà l'informazione che ci da questo metodo del PV sta nel fatto che per fare questa cosa qui noi abbiamo fatto solo operazioni di questo tipo qua o scambio di due righe o abbiamo sommato una riga o un multiplo di un'altra riga vi ricordate cosa facevamo? prima andavamo a vedere se c'erano delle cose di S o 0 e eventualmente se ci stava 0 dove non ci doveva S dovevamo scambiare delle righe due righe viceversa nella seconda parte cosa facevamo? prendevamo questa riga che aveva un elemento non nullo la moltiplicavamo la dividivamo per un coefficiente questo coefficiente non nulla la moltiplicavamo per un altro coefficiente la sottraievamo dall'altra riga e quindi per annullare determinati coefficienti determinati elementi delle righe successive è chiaro? quindi l'informazione del mezzo è più posta tutta sul fatto che tutto ciò è stato possibile solo con questi due con questi due tipi di operazione allora se avete ancora 5 minuti di pazienza vediamo soltanto cosa viene allora supponete che era una matrice 2x2 a11 a12 a21 a22 facciamolo allora supponiamo che a11 sia diverso da 0 allora la matrice come deve essere operata? qua c'è a11 a22 qua ci devo mettere a22 meno a21 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 nel metodo del pivot se andate a fare i conti questo adesso andate a fare il prodotto degli elementi sulla diagonale Allora facciamo cioè A'11 per A'22 Allora questo era A'11 era A'11 l'altro è A'22-A'21 fratto A'11 quando fai il prodotto viene A'11-A'22-A'21 Supponiamo invece che A'11 faceva 0 e che A'21 ovviamente era diverso dal 0 Vi ricordate? Le righe erano indipendenti quindi sulla prima colonna non poteva vedere tutti in 0 Allora in questo caso la prima cosa che si faceva era scambiare qua era 0 e poi c'era A'1 Fatemelo, lasciatemi scrivere così anche se lo sappiamo che fa 0 Adesso questa qui una volta fatto lo scambio è già la matrice di angolare superiù Adesso A'11 per A'22 fa A21 A12 che però è ancora uguale a A21 A12 meno A11 A22 Vi ricordo che questo pezzo siccome A11 è 0 faceva 0 quindi quindi in realtà a meno del segno viene lo stesso numero cioè dopo aver fatto il metodo del pivot se io vado a fare il prodotto degli aumenti sulla diagonale viene lo stesso numero dice no ma qua non è lo stesso numero è un altro numero no è lo stesso numero cambiato di segno questo perchè vedremo c'è stato uno scambio ogni volta che c'è uno scambio il numero cambia di segno allora per convincervi che è lo stesso numero supponete che che erano tutti e due diversi da 0 e fate lo scambio lo stesso diciamo per come ho definito io il metodo del pivot non era necessario fare lo scambio però mettiamo che faccio lo scambio lo stesso ok? mi sbaglio mi sbaglio a guardare pensavo che insomma non lo scambiamo adesso andiamo a fare A21 A22 adesso sommiamo sottraiamo dalla seconda riga un multiplo della prima in maniera da 4 parvenire 0 cosa dobbiamo fare? A12 meno A11 fratto A21 A2 adesso andate a fare il proteggiamento sulla diagonale A'11 per A'22 fa A21 che moltiplica A12 meno A11 fratto A21 A21 se fate il prodotto adesso viene A21 A12 meno A11 A12 cioè viene esattamente il numero opposto a quello di prima adesso il discorso è esattamente questo se facciamo se partiamo da N righe indipendenti questo lo vedremo nella prossima ora adesso facciamo pausa però prima di fare pausa diciamo cosa vedremo se partiamo da N righe indipendenti ed applichiamo il metodo del pv arriveremo a una matrice triangolare superiore che sulla diagonale principale ha tutti elementi diversi da 0 quindi se andiamo a fare il prodotto di questi elementi viene un certo numero se il metodo del pv lo facciamo in maniera diversa supponete di aver scambiato le righe in partenza quindi invece di aver messo e riapplicato il metodo del pv a parte il segno che è dovuto vedremo come contarvi a quanti scambi avete fatto nelle righe di partenza ma a parte il segno il numero che vi verrà alla fine del metodo del pv sarà sempre lo stesso e ovviamente essendo il prodotto dei numeri che stanno sulla diagonale finale che abbiamo visto che se le righe di partenza erano linearmente indipendenti e diciamo verrà diverso da 0 questo numero verrà sempre lo stesso a meno del segno e sarà sempre diverso da 0 chiaro? questo è quello che sarà un'informazione importantissima perché a questo punto io potrò dare a questo numero innanzitutto chiedermi perché fa sempre la stessa cosa definire questo numero in forma astratta verificare che effettivamente non è sempre lo stesso quando la dimensione è 2 ma anche quando la matice è 2x2 ma anche quando la matice è nxn e una volta capito chi è questo numero gli rompe il nome allora io dirò che le righe di una matrice sono linearmente indipendenti se e solo se quel numero è diverso da 0 è chiaro? vabbè ci vediamo ci vediamo ci vediamo ciao ciao